ebbene cari amici eccoci qui dal mail meeting delle etichette indipendenti di faenza anche quest'anno radio saiz parteciperà in qualità di ospite di partner di questo bellissimo evento che appunto racchiude tante cose racchiude le radio racchiude le etichette e soprattutto racchiude gli artisti quindi la musica la bella musica noi in questo momento ci troviamo di pronta al teatro masini ma in piazza del popolo qua vicino avete la possibilità se siete qui presenti a questo evento qui a faenza di vedere tante cose tra cui anche i stand tanta arte c'è veramente di tutto a dire la verità quindi non posso dilungarmi più di così io vi invito a seguirci quest'oggi qui con noi se siete anche da queste parti veniteci materialmente fisicamente a trovare e scambieremo volentieri quattro chiacchiere intanto nell'arco della giornata vedremo di farvi conoscere gli artisti e gli addetti ai lavori che parteciperanno qui quest'oggi grazie ancora e io vi lascio a tra poco ciao